Sarà contro il Giappone una partita molto diversa, sì, certo. La nostra Italia dobbiamo avere la faccia di una squadra che ha già fatto due partite in questo torneo, con l'esperienza, con anche la struttura che ha cresciuto su questo torneo. Alla fine, il più importante è di ancora crescere nel nostro gioco per essere al 100% e al 110% alla fine di questo torneo. Sarà una partita contro loro con molti ritmi, con molti fasi di gioco, con intensità alta, dunque è vero che noi piacciamo giocare in questa condizione, ma anche loro, dunque dobbiamo prepararsi a una partita di alto livello. veramente tecnicamente, fisicamente, nel ritmo. E sì, è vero che l'ultima partita contro loro si passa bene per noi, ma è un nuovo ciclo, una nuova squadra davanti a noi. Anche noi siamo una nuova squadra, con un nuovo progetto, dunque sarà molto diverso dall'ultima volta. Giochiamo nel loro stadio, nel loro paese, dunque sarà duro. Ma abbiamo già passato due partite molto difficili, anche nelle condizioni un po' difficili. Dunque secondo me adesso siamo pronti a essere davanti loro. Grazie. 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 Grazie.